tada rarità assoluta un'edizione tedesca di sotto la pioggia di venditi raro stampa tedesca direct metal dmm mastering masterizzazione direttamente dal metal antonio vendi in leader text 625 416 ap ultrafo 6 631 sotto la plato 1 sotto la pioggia torino dimmelo tu cos'è fellini lato 2 le ragazze di monaco italia leonora stuccas testa e musica di antonello venditi verlag stuccas tedeschi chiamano tutto verlag verlag è questo verlag è quello è un po' come se noi ogni volta dovessimo dire edizioni pubblicazione artistica pubblicazione letterale saggio di storia ultrafo direct metal recording sotto la pioggia 625 416 gem 830 3 Grazie a tutti.